Che reclama di essere scoperta Il nuovo libro degli spiriti, Mediterranea e a cura di VB, cerchio medianico K attraverso Marco, guida interiore. Generalmente la prima forma in cui questi avvertimenti si manifestano nella mente dell'uomo è un senso di vuoto, di inutilità, è la coscienza che reclama di essere scoperta. In un secondo momento vi vengono poste dinanzi creature sofferenti, in situazioni nelle quali voi non potete più ignorare, come prima d'ora facevate, la loro esistenza. E la morale che vi chiede di manifestarsi. Vi è poi un terzo momento in cui gli altri vi parlano delle vostre limitazioni, vi fanno anche, attraverso le esperienze, conoscere il portato di ciò che realmente siete. E' la libertà che chiede di sorgere nell'intimo vostro. Poi insostituibile, logico, fatale, giunge il dolore. Siate dunque sempre attenti a questi segni della legge. Attendete all'essere vostro interiore.